Ciao a tutti, io sono Miriam e oggi vi mostrerò come la mamma ha fatto questa decorazione pasquale. Per prima cosa ha preso un foglio, l'ha piegato in due e ha disegnato un mezzo uovo e poi l'ha ritagliato. E ha ricalcato il suo contorno su un cartoncino e ha ritagliato anche questo. Poi andate a pitturare il cartoncino. Ho fatto poi delle cannucce di carta, vi lascio il link dove c'è il pallino con la I. Gli come le fallee con il trapano. Ha colorato anche le cannucce e poi andate a vedere dove metterlo sul cartoncino di uovo. Poi le ancollate, prima da un senso e poi dall'altro. Poi ho ritagliato l'eccesso di cannucce. Poi andate a incollare sopra delle decorazioni che sono state fatte in un precedente video. Attaccato un cordoncino dietro per appenderlo. E ecco qui la decorazione pascuale finita. Il tutorial è finito e noi ci rivedremo al prossimo video. Ciao!